Ciao a tutti negli ultimi giorni ho portato un paio di balbi smart, brand FC Mila come ho fatto nel passato, ho sperato di poter usare Tuya Convert per portare un firmware open sui balbi, ma ho immediatamente realizzato che il programma non funzionava con questo brand di balbi se non sai cosa è Tuya Convert, vi lascio nella descrizione il link all'appositorio officiale Tuya è una compagnia cinesa che offre altri venditori un catalogo di prodotti di automazione a casa per essere riprenditi la maggior parte dei prodotti sono basati sull chip ESP8266 e grazie al lavoro di un gruppo di acres è possibile triccare i prodotti e convincereli ad installare un firmware open, ad esempio Tasmota back to my FC Mila bulbs non poter installare Tasmota con un semplice wifi ed è necessario aprirlo per capire meglio come si sono fatti ho trovato che il modulo di controllo è basato sull'OPL1000 chip da Opulinks l'SDK offiziale è stato anche rilasso per questo microcontroller, ma nel momento in cui sto registrando non c'è un firmware alternativo per questo l'unica possibilità era quindi di ingegnerare la schematica bulb e completamente replacare il modulo di controllo con un classico ESP121 programmato con il firmware Tasmota nella descrizione vi lascio il link al mio blog dove puoi trovare tutti i passaggi qui è il risultato finale qui è il risultato finale qui è il risultato finale grazie per la visione e mi sapete nei commenti se hai hackato delle bulb simili grazie per la visione